Tragico incidente in montagna, nella tarda mattinata una guida alpina e uno escursionista sono morti dopo essere precipitati sul versante Terramano del Gran Sasso. Le vittime sono Raffaello Toro, guida alpina 48enne di Spoltore e Gianluca Camplone, 51enne escursionista di Pescara. I due erano impegnati in cordata lungo la parete nord del Corno Piccolo sul versante Terramano del Gran Sasso quando improvvisamente sono precipitati. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un altro gruppo di alpinisti che ha fatto scattare l'allarme. I corpi dei due uomini sono stati recuperati e trasferiti a Prati di Tivo dal personale dell'elisoccorso del 118 di Pescara e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo. E noi abbiamo sentito proprio il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, Daniele Perilli, che ricostruisce la vicenda. Si apprestavano a scendere dalla vetta sul canale che si trova fra il canale Sivitilli e il Camino di Mezzo sulla nord del Corno Piccolo. Le condizioni del tempo oggi erano buone, anche la neve era buona. Loro purtroppo sono scivolati all'inizio del canale e quindi hanno percorso tutto il canale finendo sulle rocce sottostanti. Erano legati in conserva e quindi dal momento che il primo, il secondo, questo non siamo riusciti a ricostruirlo e scivolato, ha portato via anche l'altro. Hanno tentato e provato in più modi di fermarsi, però non ci sono riusciti. Questo fatto purtroppo dimostra ancora una volta, e sono tre morti nel giro di un mese sul Gran Sasso, che la montagna è pericolosa. È pericolosa, però la montagna affascina tutti noi. In montagna bisogna andarci preparati e informati, però nonostante ciò il rischio rimane sempre e comunque. E lo dimostra il fatto che nell'ultimo mese tre persone esperte sono venute a mancare. Questo ci deve fare ancora capire di più che in montagna bisogna essere sempre molto attenti, attenti a tutto e cercare di anticipare i problemi, delle volte prevenire, cercare di informarsi, ma soprattutto di formarsi per abbattere e limitare la soglia di pericolo.